Non edizione del VDV, la prima è avvenuta nel 1998, è in un qualche modo un'edizione da record. Abbiamo avuto veramente tantissime persone qua attorno a noi, è bellissimo vedere come in questa edizione che noi abbiamo chiamato Morden Red, non abbiamo solo i Ducatisti tradizionali, ma abbiamo anche tanti nuovi Ducatisti che si affacciano e che condividono con noi questa passione. La scorsa edizione abbiamo introdotto la moto Scrambler, che come sappiamo non è più solo una moto ma è una marca, e abbiamo tanti Scrambleristi, abbiamo tutti gli appassionati di Diavel e X Diavel, quindi questa famiglia si sta allargando certamente molto. Un'edizione che ci vede anche presentare in anteprima una moto che lanceremo nel 2017, abbiamo lanciato la Super Sport, che è una moto sportiva stradale presentata in anteprima per tutti i Ducatisti, cilindrata 936, quindi un bel modo anche di accedere al mondo Ducati con una sportiva più semplice, facile, anche accessibile, anche accessibile come prezzo, quindi certamente è stata una bella sorpresa per tutti i Ducatisti che hanno partecipato a questo raduno. Questo raduno in cui non più solo abbiamo la gara di accelerazione, ma abbiamo anche la gara di flat track che abbiamo realizzato ieri, vinta da Andrea Dovizioso, quindi che sta continuando ad aumentare nei contenuti e quindi certamente che rimane un punto di riferimento interessante ed appassionante per tutti gli appassionati di Ducati. Ducati che in sei mesi del 2016, quindi nei primi sei mesi, cresce rispetto a un mercato più o meno stabile, un mercato che cresce solo dell'1%, abbiamo presentato dei dati con una crescita attorno al 7% a dimostrazione di come in un qualche modo questa strategia di allargamento della nostra gamma in segmenti anche adiecenti ci permetta di continuare a far crescere le dimensioni della tenda.